E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questo ultimo video di Princess Peach Showtime Nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo effettivamente fatto una lestida ai boss, abbiamo visto tutte quante le gemme di splendore che noi dobbiamo prendere e basta Dallo scorso episodio a questo episodio è passato letteralmente un minuto E lo sto facendo solo per voi Benvenuti quest'oggi nel andiamo a trovare tutti quanti gli abitanti nascosti giocando a nascondino con lo spray di ninja Spero che questa cosa possa piacervi e spero che possiate lasciare like e se non lo fate goccia a voi E tra questo vi passo direttamente al video Come potete ben vedere noi ci troviamo sempre nella situazione ideale, questo ad esempio è l'episodio numero 1 Questo è il livello numero 1, scusate Di Super Princess Peach E dobbiamo vedere dove si trovano praticamente tutti quanti questi Avevo già un buon sentimento e fortunatamente l'ho trovato Spero che si possa uscire direttamente E praticamente risolvere tutto quanto questo enigma Ma a quanto vedo penso proprio che sia così Io non vi farò vedere tutto quanto il livello per l'ennesima volta Vi faccio soltanto vedere qualcosa che vi possa rimandare al ninja Dopodichè basta Non vi faccio rivedere assolutamente per nessuna ragione al mondo questo livello E io dirò soltanto qui o qualsiasi cosa che vi possa testimoniare Che praticamente sono andato a trovare quello che cercavo Detto questo direi subito che possiamo andare avanti Anzi diamo il via al video perché sicuramente ci metterò una bella oretta E detto questo via ai qui e qua Qui sicuramente c'è qualcosa E infatti qui che si trovava leggermente più indietro del solito E da adesso in poi sentirete soltanto una voce robotica in tutti quanti i livelli Si ho dovuto rifare il livello E se uscite non vi salva niente Quindi mi raccomando raga Qui 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 Ragazzi mi è venuta un'idea Visto che questa è una cosa scocciante Se devo stare ogni volta a fare questo e a mettere ogni volta qui qui e qui A sto punto faccio prima a fare le foto all'interno del livello e basta Quindi 3, 2, 1 Saranno passate sicuramente 4 ore però fa niente Dettagli E ragazzi finalmente ce l'abbiamo Non so come ma ce l'abbiamo fatta Sono invecchiate addirittura le coperte che stanno dietro Una cosa assurda Ce l'abbiamo fatta Questi sono altri dettagli E qua letteralmente va fatta una a uno Perché l'ultima non so neanche io come fare Sconfiggere grande uva spina senza subire alcun danno Ma per quanto riguarda invece il nascondino Siamo a buon punto Abbiamo letteralmente finito tutto quanto Oh Che pulizia si c'è l'umicio che non ho già proprio pensato nel farlo Per il resto li ho fatti tutti quanti i boss E poi ovviamente nel piano sotterraneo manca un'altra Cioè praticamente mancano Ah È vero Avevo anche disco becco Mancano praticamente 3 gemme in totale Non le farò vedere State sicuri che comunque le gemme servono per comprare robe In B4 In B4 Mi è venuta la brillante idea Di fare tutte quante le fotografie E ecco quello che vi mostrerò quest'oggi Purtroppo ho fatto anche delle fotografie In mezzo a caso A causa di copertine che dovevo fare Anche di altri giochi Visto che Non potevo stare letteralmente a fare Solo e soltanto Princess Peach E come potete ben vedere Questo Non mi ricordo che cosa è Questo è il che voi Se andate alla seconda cosa Vi do anche le indicazioni Per vedere dove si trovano questi abitanti nascosti Se voi andate alla seconda casa Dove praticamente non c'è il personaggio Trovate questo standard Qua si trova In questa circostanza Praticamente Voi dovreste aver superato Qua a sinistra Voi avete Tutta quanta la ribalta e altro Anzi a destra scusate A sinistra invece Avete questo standard Che si vede invisibile E qua è praticamente Prima di prendere il power up Per quanto riguarda L'altro sempre nel piano terra Abbiamo La preparazione dei dolci E quindi Proprio qua si trova Nel primo scenare Se non sbaglio Si trovano Ah no non si trovano tutte e due Si trova questo Vicino alla fattoria Si trova effettivamente Questo standard E questo si trova letteralmente Quindi vicino alla fattoria Deve abbassare Quanto per la voce Vabbè Per quanto riguarda Invece altre cose Qua vicino Si trovano Sapete Questo è il coso Dei pomodori Qua vicino E poi c'è L'altro vicino nel grano Una cosa del genere Giusto per Letteralmente Delicazioni Qua Patinaggio Sul ghiaccio Qua ci troviamo Nel primo piano E Vicino alla locale C'è questo Vicino al pondo Nello stesso scenario C'è questo E poi Alla fine Un po' di tutto Prima di Prendere il potenziamento Della patinatrice Sul ghiaccio C'è questo Standard Invece Qua andiamo sul detective Sempre al primo piano Abbiamo Questo Che Diciamo Si trova proprio All'inizio del livello Questo si trova Vicino a questi due Puliziotti E' facilissimo Da vedere E prima di prendere Power up Prima di entrare Nella casa Dove prendere il power up Del detective Peach Vede uno standard A caso Qua ci troviamo Nella spadaccina Un livello molto semplice Dove all'inizio Letteralmente Si trova lo standard Dopodiché Si trova nel ben mezzo Del livello E poi alla fine Si trova Prima della grata finale Per andare a sconfiggere Il boss Per quanto riguarda questo Dovrebbe essere Una super missione Se non ricordo male E questo si trova Proprio all'inizio del livello Dopodiché Si trova un altro All'incirca Si trova a metà livello Con cui potete vedere Che si trova vicino Un'abitazione Ed è molto visibile E questo E letteralmente Prima Di salvare Un Il personaggio Sulle scale Che si trova Praticamente Per poi andare A trovare Il power up Che ci darà lui Facendo tutto Quando era stato All'indietro Questo È il fatto apposta Di Peach Cuoca Nei festeggiamenti Di Halloween Praticamente Dove fanno Un certo scherzetto Qua si trova Qua si trova il primo Qua si trova il secondo E qua si trova il terzo Sono ben visibili O se ne dire Però Con i suoi dettagli Qua invece Si trova Una missione particolare Non mi ricordo Come si chiama Il titolo del livello Ma è sempre Una super missione Mi confondo Sempre tra i due Perché c'è La rada segreta Questa è la rada segreta Questa invece L'altra era La super missione Si trova all'inizio del livello Come potete ben vedere Qua si trova In mezzo al fuoco Quindi state Ben attenti E qua si trova Letteralmente Nel mentre Voi fate dei combattimenti Contro Sti Mostriciattoli Che potete ben vedere Forse Non so Come farvi vedere Poi c'è Peach Cowboy Inizia il livello Col Cowboy Nel mentre Stanno le persone Che stanno Guarda dove è sul cielo C'è Storta di stentardo Che si vede un botto Qua sopra il treno Mi raccomando Appena arrivate sopra il treno Si trova questo stentardo Io mi ricordo Sto dato a memoria fotografica Altrimenti Non so neanche io Come avrei fatto A memorizzarmi Ste cose Quando saltate Da un vagono all'altro E vedete Poi questi due cavalli Che stanno andando Con la loro gemma Sta sto coso E qua invece Non c'entrava niente Non c'entrava niente Quello è All'altro gioco Poi per quanto riguarda Altro Si devo fare la copertina Con questo luogo Lo vedrete poi Super Mario Galaxy Settimana prossima Se le dire Poi questo È la sirena Questo si trova all'inizio Del livello Questo si trova In mezzo A questo scenario Ma sempre all'inizio Del livello E questo si trova Prima di prendere Power Up Qua invece È la favola Kung Fu Quindi iniziamo Il Kung Fu Con vicino le scale A questo stentardo Poi in seguito Prima di questo Balloon Che vola C'è uno stentardo Si vede abbastanza bene Anche qua Si vede abbastanza bene Sta vicino una colonna Non si vede bene Che colonna Però se voi andate all'estremo In una parte di livello Troverete questo stentardo Qua è Detective Questo è palesemente visibile Si trova dove sta il cuore Anche dove stanno Tutte e due i cuori Dovrebbe essere Si trova anche In questo stentardo Qua invece È dove si va a prendere La torre dell'orologio E qua invece Proprio sulla torre Dell'orologio Vicino la chiave Per quanto riguarda Invece Il Dojo Ninja Il Dojo Ninja Fa sì che Qua si vicino All'inizio del livello Trovate questo Questo lo trovate Proprio davanti A questa porta Ben visibile Oserei dire E qua invece Lo trovate all'estremo Del livello Dove bisogna salvare Quello Quello abitante Verso destra Questo forse È una cosa che Entrerà all'interno Della copertina Poi devo vedere Qua invece Nella super mission Nell'altra misteriosa Invece Quindi il secondo livello Della l'altra misteriosa Potete trovare Questo abitante Proprio all'inizio del livello Guardate sempre dietro Non si sa mai E poi Qua si trova Nel mezzo del nulla Ma si vede Attraverso uno scenario Questo è capitato Traccio Traccio Che non c'è tra niente Ah Che non c'è tra niente E qua era bellissimo Farvelo vedere Perché era la parte Più difficile Ci sono soltanto Due E dico Due Standardi Difficilissimi Da vedere E vi ho fatto Letteralmente Questo video Per farvelo vedere In poco tempo Lo potete per vedere Qua Lo scenare In cui si distrugge tutto Quindi Nel mezzo Si distrugge tutto Voi Letteralmente Prendete tutto quanto Quello che possedete E Non andate Verso l'alto Ma verso il basso Non perdete la gem In pratica Ma andate qua Nel mentre Potete ben vedere Che c'è uno stridardo Se andate in sopra Non lo vedrete Nemmeno E mai Continuerete Andare Più avanti Qua invece Si trova All'inizio Del livello Secondo livello Da patinatrice Si trova questo Vicino A dove stanno Praticamente I nemici Ma si vede Tramite uno scenario Questo è semplice Si trova prima Dalla batteria boss Ma il secondo È difficilissimo Come la super missione Che abbiamo mostrato Prima L'alto misterioso Che abbiamo mostrato Prima Questo anche Si trova praticamente Prima di prendere Quella gemma là E prima Di sconfiggere Praticamente Dei nuovi nemici Che sono saliti È particolarissima Come standard Non lo posso descrivere Però guardate Tra il pubblico Che sta ogni tanto La sirena Questa è facilissima Si trova letteralmente All'inizio del livello Dietro Questa si trova Molto visibilmente Quindi non ve lo dovete Anche descrivere Questa si trova Appena entrata All'interno del relitto Affondato Nella super missione Appena inizia Il livello Subito dietro di voi Potete trovare Questo standard Questo si trova Proprio quando si raccoglie La sesta gemma Quindi proprio All'inizio Di un nuovo scenario E qua si trova Prima della battaglia Boss Diciamo E la battaglia Boss Principale Contro Quell'alieno Strano Che si muove Su 10 miliardi Di tentacoli E vabbè E la si prende L'altro standard Per quanto riguarda Qua La leggenda Kung fu Quindi secondo livello Kung fu Questa si trova In un particolare luogo Ma è ben visibile Se andate su un estremo Del livello Praticamente si trova Tutti quanti sugli estremi Se vedete Qua avevo appena preso danno Per quello non vi vedete E qua si trova invece All'inizio di un livello Sono tutte e tre Ben visibili E non avrebbe senso Effettivamente mostrarveli Qua ci troviamo invece Nel piano sotterraneo Splendì Nel vero senso della parola La splendis Da Cina Si trova praticamente Molto Lontano Dal livello In sé per sé Invece Gli altri si trovano Molto A livello iniziale Ad esempio Nella ladra misteriosa Si trova In questo punto Che non vi posso descrivere Però è ben visibile Ve lo dico già Nella supermissione Dove c'è il professore Che sta cercando Un metodo Per salvare tutti E poi qua Ci sono all'inizio Dei livelli Uno Due Qua si trova letteralmente Vicino A dove sta Stornasone E qua Quindi dove si prende Il terzo punto In comune Questo si trova All'incirca Non dico all'inizio Di livello Ma all'inizio Del livello giocabile Quindi prima di salire Sopra il cavallo Andate verso destra E come In fondo Potete trovare Un'altra gemma Nascosta A destra Potete trovare Questo standard Che lo si può prendere In un'altra maniera Se non prima di andare Dal cavallo stesso Sul dojo ninja È facilissimo E altrimenti È ben visibile Posere dire Sul patinaggio artistico Si trova In un particolare punto Dove stanno Praticamente Questi frammenti Di gemma È ben visibile Non ve lo so neanche A dire Per quanto riguarda La Q Che invece sta davanti A questa porta Non è ben visibile Vicino qua Qua dietro Praticamente In basso A destra Ci dovrebbe essere Il coso Che è da Il fiocco Se vi ricordate bene E davanti C'è una porta Davanti alla porta C'è proprio Questo standard Non è visibile Se non andate a prendere Il fiocco Perché se voi andate dritto Ci passate E non lo vedete Si mimetizza un botto E la Praticamente L'abbiamo fatto Per quanto riguarda Qua Vi volevo Mostrare una cosa Per quanto riguarda Tutti quanti I classici dolci Qua Non ho fatto in tempo Effettivamente mostrarvi Ma tutti quanti I classici dolci Possono arrivare fino a 8 E ve lo volevo mostrare Facendovi vedere Non ci sono riuscito A quanto pare Ma facendovi vedere Che tutti quanti I biscotti Normali Senza L'aiuto di quelli Splendì O di tutti gli abitanti Che vi aiutano Pasticceri Potete arrivare Non più a 4 Ma a 8 Dovete aspettare Più tempo Diciamo così Ma fin quando Crash Diciamo potete Arrivare a 8 E potete fare I livelli di dolci Molto più velocemente Ecco perché Non mi ritrovavo Con le cose Poi E niente Questo era Praticamente Tutto quanto Super Princess Peach Per quanto riguarda Le gem L'abbiamo presse Praticamente tutte Tranne 3 Purtroppo Per la terra Possiamo andare a spendere Tutte le gem Che ho ricavato E potremmo andare a sbloccare Anche La Diciamo La funzione Che abbiamo sbloccato Ovvero quella Di aver abilitato Grazie Alla ricerca Degli abitanti Nascondi Nascondi Nascose Sì Non so il termine Comunque Possiamo abilitare Qualche cosa Non lo so Una ricompensa Per un vestito Per un vestito Che dovrebbe essere Più un capito Di bilionamenti Che un vestito Non dovrebbe essere Tecnicamente un vestito E quindi Prendiamo L'ultimo vestito Rimasto Abbiamo ben 7000 7268 69 monete Mamma mia Raga Mamma mia Davvero Non Non trovo Effettivamente La cosa da spendere Quindi Dovrebbe essere Più che altro Una decorazione Forse Non lo so Però quali sono I dettagli Forse sta Proprio alla fine Non ve lo mostrerò Non ha senso Mostrarlo L'unica cosa Che vi posso mostrare E che questo sarebbe Appena si ottengono Gli altri Tre gemme E noi Compreremo Invece Le statue Dello splendore Che sono più belle Di questa decorazione Quei sia a caso Però letteralmente Era tutto a tema Ambientale E altro Manca letteralmente Tre gemme Queste tre gemme Non ve le mostrerò Mai Se ci dovesse essere Un messaggio Nascosto Ve lo faccio vedere Direttamente Adesso Altrimenti No Allora ragazzi Per quanto riguarda Il 100% Dopo la bellezza Di due ore in più Per finire Tutte quante le gemme Vi dico che Questo è il messaggio Che si ottiene Dopo aver raccolto Tutte quante le gemme Subito dopo Stella Come si chiama lei Il fiocco Ci dà direttamente Un messaggio Che sarebbe La raccolta Di un vestito speciale Quando noi andiamo A comprare Nel capo di abbigliamenti I vestiti speciali Otterremo Il vero e proprio Vestito speciale Di Peach E il vestito speciale Di Stella E questo È il completamento Al 100% L'ho indossato subito Perché è bellissimo Però vi devo dire Aver sprecato Letteralmente 7 ore Per sta cosa Mamma mia E quindi Che questo significa Che dopo questo livello Io mi metterò a registrare Galaxy Come se niente fosse E dal settimana prossimo Inizierà Dal lunedì prossimo Fino a venerdì Non prossimo Ma l'altro ancora Galaxy I primi 7 più 5 12 episodi Quindi Sì Detto questo Spero che avete apprezzato Spero di vivermi nel prossimo episodio Like e iscrizione Capparella E noi ci vediamo Nel prossimo episodio O meglio Nella prossima serie Detto questo Ciao a tutti E spero che a tutti Si è piaciuto questo tutorial Supportatelo con un like E un'iscrizione Per favore Ciao